Calma, 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 io lo so che si stanno scaldando gli animi, qua Bitcoin inizia a pompare, quindi sono più che sicuro che a molte persone il peggior nemico dell'investitore sta iniziando a fare brutti scherzi. Per peggior nemico dell'investitore intendo non io, ma noi stessi, ovvero la nostra testa. Ora, guardiamo qua, sembrerebbe che Bitcoin abbia iniziato a pompare, e quindi sono più che sicuro che nella testa di molte persone ci sta questa scena qua. Sbrigati cazzo, compra subito, compra immediatamente, sono più che sicuro che Ethereum a 1500 non lo rivedi più. Vuoi mettere che veramente non ritorna più a 5000? Sbrigati a comprare immediatamente, torna a casa, fai quel dannato bonifico su FTX e inizi a comprare perché poi te ne penti. Ecco, secondo me a molte persone sta iniziando a scattare questa cosa nella testa, e questo lo dico guardando altri gruppi, guardando YouTube, guardando i video, guardando anche il mio canale Telegram, ma guarda un po' cosa ti faccio vedere a schermo. Non so se tu ci sei cascato oppure no, però questo qua in realtà non è dove siamo adesso. Infatti se io ando a fare zoom out, vedi che dopo questo livello, e stavamo praticamente a marzo 2022, che sembrava praticamente la stessa situazione, ovvero dopo un pesante ribasso, un po' di lateralizzazione, sembrava che avessimo rotto quella resistenza, ovvero questa qua di 45.000 più o meno, ma in realtà era una bull trap. Per bull trap si intende un movimento rialzista che viene dopo un dump, quindi dopo un crollo del mercato, una discesa del mercato, che appunto è una bull trap, ovvero tutti i retail, o non solamente i retail, credono che sia finito il bear market, iniziano a rimettere i soldi, ma raggiunta una certa soglia, non solo si perde e si ritorna sotto, ma si va ancora più giù. Infatti da quel momento, da marzo 2022, stavano a 45.000, alcune persone qui magari hanno avuto lo stesso pensiero di adesso, ma in realtà da lì, il grafico fa paura solo a vederlo, si è continuati a scendere fino a stabilizzarci sui 20.000. Adesso sta avvenendo la stessa identica cosa. Ora, io non posso sapere se questa sia la stessa cosa oppure no, sembra la stessa cosa, più che altro due candeline verdi messe lì così, a me non spostano di una virgola la mia pianificazione, ma in teoria la pianificazione non dovrebbe essere spostata da veramente niente, non proprio niente, da pochissime cose, ma non dai rumor, dalle notizie poco rilevanti. Infatti in questi giorni c'è stato qualche rumor sui tassi di interesse, c'è stata qualcosa, ma secondo me i dati macroeconomici generali sono ancora molto molto negativi. Premetto ad essere onesto, per me comunque sia Bitcoin, per me che ho visto Bitcoin anche nel 2017 a 20.000, e purtroppo all'epoca io non vendetti. Fatto sta che vedere 5 anni dopo Bitcoin allo stesso livello del 2017, ma con delle condizioni macro completamente disastrose, peggiori, a me fa ancora un certo effetto. Quindi in realtà secondo me Bitcoin non sta per niente sfigurando in questo momento storico. Però da qui a dire che adesso si riparte verso il 100k to the moon, secondo me ce ne passa. Infatti in questi giorni sono stati rilasciati degli earnings molto importanti. Gli earnings, vabbè detto veramente in tre parole, sono delle relazioni che vanno a far vedere agli investitori la situazione della società nell'ultimo periodo. In questo caso io mi sto riferendo agli earnings più importanti che sono usciti negli ultimi giorni, ovvero a quelli di Google, a quelli di Microsoft e tra un poco anche a quelli di Apple. Perché sono importanti? Perché in questi earnings si iniziano a vedere le prime difficoltà delle aziende nell'ultimo periodo. Ma, secondo me, non sono ancora esaustivi rispetto alla vera attuale situazione. Perché gli earnings di adesso fanno parte del Q3, ovvero del terzo trimestre, periodo luglio-settembre. In questi earnings, anzi, senza che parlo, andiamola a vedere, se non sbaglio ce l'ho aperto. Eccolo qua, come dicevo prima, Q3, quindi terzo trimestre 2022. Vediamo che, sì, ok, Google rispetto al 2021 ne ha generato più fatturato, più revenue, ma il dato importante non è questo, perché in realtà questo era più che aspettato. Ormai queste società continuano a crescere da praticamente 20 anni abbondanti. Quindi non è questa la particolarità. La particolarità, secondo me, da attenzionare è questo numero qui, questi due numeri. Infatti, vediamo che rispetto all'anno precedente, ha aumentato il suo fatturato in dollari del 6%. Dico in dollari, perché a quest'altra riga vediamo un dato importantissimo. Ovvero, che immaginando la stabilità dei prezzi, quindi senza immaginare un dollaro che si è rafforzato così tanto ultimamente, in realtà la crescita sarebbe stata dell'11%. E questo, a molte persone che magari non vanno a guardare bilanci, oppure o investono solamente in cripto, oppure solamente in ETF, magari non viene naturale capire questa cosa. Perché il dollaro più forte ha danneggiato Google, e anche Microsoft, e anche Facebook, e danneggerà tantissime società americane? Per quale motivo? Perché una società, prendiamo ad esempio Alphabet, che sarebbe Google, ha il suo business in realtà in tutto il mondo. E questo che cosa vuol dire? Che ad esempio il fatturato che andrà a generare in euro, per il business legato all'Europa, avrà un impatto negativo sui bilanci. Perché magari, immaginiamo, facciamo un numero, ha guadagnato un milione di euro. Ma se l'euro ha perso valore rispetto al dollaro, e i bilanci vengono riportati in dollari, allora a quel punto, per Google, il dollaro forte è un problema. Perché magari ha generato lo stesso fatturato in euro rispetto all'anno pregresso, però quando lo va a riportare in dollari, sembra, in realtà è così, ha guadagnato meno dollari. E quindi questo è un problema. Perché sto dicendo questo? Perché sì, Bitcoin ed Ethereum, poi sembra di che cosa sto parlando, hanno sparato due candeline che per me sono microscopiche, per carità, mi fanno piacere, ma bisogna stare con i piedi per terra, quando si sta in una situazione macroeconomica del genere, hanno sì sparato queste due candeline, ma la situazione macro qual è? L'inflazione in America quant'è in questo momento? 8,2%, e il 10 novembre, quindi tra praticamente due settimane, saranno rilasciati i nuovi dati, ma non è che è previsto un 7, un 6, un 5% di inflazione, è previsto un 8,1%, che poi non si sa se questa previsione sarà corretta o no, ma tendenzialmente ci andiamo molto molto vicini, quindi al massimo può essere o un 8, oppure un 8,2%. Fatto sta che a livello macro la situazione è praticamente la stessa. Anzi, addirittura proprio oggi la Banca Centrale Europea ha alzato a sua volta, guardate dopo quanto tempo, guardate da quant'è che sta a zero il tasso di interesse. Premetto, piccola parentesi, il fatto che i tassi di interesse siano così bassi, non è per niente una cosa normale. Noi come investitori ce lo auguriamo, perché tasso di interesse basso vuol dire sostanzialmente liquidità, e la liquidità alla fine, gira e gira, va sicuramente a finire nella finanza, nei circuiti finanziari, e quindi in realtà tassi bassi per gli investitori, cosa positiva. Ma in realtà questa qui è una forzatura economica. Non è normale in un ambiente economico sano avere tassi di interesse così bassi, perché chi ha il potere di stampare denaro, sostanzialmente sta manipolando un'informazione del mercato. Che cosa voglio dire? Che non è normale in un ambiente economico, lasciamo stare l'aspetto politico, quindi assistenzialismo, quindi tutte altre cose. Ma in economia questa cosa non è sana, perché si va ad inquinare, si vanno a sporcare le informazioni per gli attori di mercato. Non è normale, parte piccola parentesi perché questo non fa parte del discorso, ma ormai ho iniziato a dirlo, non è normale che i paesi come l'Italia e la Spagna vadano a prendere in prestito soldi dalla banca centrale, dalle banche, perché anche le banche, anzi soprattutto le banche, sottoscrivono i BTP. Non è normale che noi retail andiamo a sottoscrivere un debito con uno stato così indebitato in queste condizioni ad un tasso così basso. È possibile solamente perché l'economia e la finanza ormai sono 15-20 anni che sono molto molto manipolate. E questa cosa tendenzialmente in economia non è un bene. Non è un bene nel senso che prima o poi qualcuno questo conto lo deve pagare. La ricchezza non si crea, il valore non si crea. Si può stampare per tamponare un problema, si può stampare per arginare leggermente un problema, ma tanto più stampi, tanti più tu problemi andrai a creare in futuro. E noi questo lo stiamo iniziando a vedere. Fatto sta che i tassi di interesse della BCE sono stati pari a zero per tantissimi anni e proprio oggi la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, ha alzato di 0,75 punti base i tassi di interesse, portando quindi l'attuale tasso di interesse a 2. Quindi l'inflazione in America ci sta ancora. Sono ancora previsti altri aumenti da parte della Fed, o almeno il mercato se li aspetta. E anche io me li aspetto. Non tantissimo, cioè secondo me la Fed non può andare ad essere troppo aggressiva, perché altrimenti il dollaro si rafforza troppo e le società americane iniziano veramente più o meno a vacillare. Qua ci stanno altri discorsi, ma vabbè non è adesso il caso. Fatto sta quindi che a livello macroeconomico stiamo veramente messi, secondo me, come ho detto negli altri video, male. Quindi non me la sento di dire, ma può tranquillamente essere, il mercato ti può sempre smentire, non me la sento di dire che queste due candeline siano qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di così buono. Quindi, visto che a livello macroeconomico le cose non è che si siano risolte, non è che l'inflazione è scesa, la Fed ha detto chiaramente che agirà nel massimo dei suoi poteri per riportare l'inflazione ad un livello ragionevole. Fino a un anno fa il livello ragionevole era 2%, ma non è che lo ha prescritto il dottore. Si potrebbero anche inventare che a quanto pare l'inflazione buona, l'inflazione sana sia del 4%. Non mi andrei a meravigliare perché chi sta a quei livelli se la canta e se la suona. Ovviamente molto spesso ha i nostri danni, non è loro, perché chi sta vicino alla stampante monetaria è molto più avvantaggiato del retail, ovvero dell'ultima persona che può andare ad usufruire di alcune condizioni economiche. Fatto sta che secondo me in questo momento non siamo ancora nella condizione di vedere questa cosa qua, quindi di un Bitcoin che prende, riparte e va a riconquistarsi un quadro macro bullish. Poi nel breve può anche arrivare a 25.000, per carità, ma io non mi aspetto chissà che cosa. Quindi che cosa sto facendo? Sto mantenendo il mio piano. Non perché il mio piano sia corretto, perché nessuno, anche in questo caso, può sapere se un piano è giusto o sbagliato, perché anche in questo caso se uno sapesse se il piano è giusto o sbagliato vuol dire che viene dal futuro e non mi risulta che sia possibile, ma seguirò il mio piano perché mi metto nelle condizioni di fare meno errori possibili, meno utilizzo la testa, meno seguo i rumors e più probabilità ho di guadagnare. Quindi io ho il mio pack su Bitcoin, su Ethereum e su BNP e continuo quel pack. Non ci facciamo prendere dalla testa per paura di perdere l'occasione oppure al contrario di vendere all'improvviso perché questa potrebbe essere l'ultima volta che Bitcoin sta sui 20.000 e poi riprecipita a 13.000, 10.000. Questi sono tutti i pensieri della nostra testa che è sostanzialmente creata in funzione del fatto che deve fare previsioni. Il nostro cervello è un organo predittivo e quindi cerca in continuazione di fare previsioni. Ma mentre nell'antichità questa funzione ci andava sostanzialmente a salvare la vita perché ovviamente andare a predire possibili problemi, possibili pericoli nella savana, nella giungla, insomma dove ti pare a te, poteva essere utile. Quando guardiamo questi grafici però questi pensieri molto spesso, ci stanno tantissimi studi che lo dimostrano, sono fallaci, sono errori, sono supposizioni che noi andiamo a fare non supportate dai fatti ma la cosa più grave sapete qual è? Che cambiano in continuazione. Se adesso sentiamo una narrativa allora bitcoin è bullish e spacca il mondo. Se poi per un mese si inizia a parlare di bitcoin, di depressione, di recessione, allora bitcoin è sì buono ma niente di che non mi aspetto chissà che cosa. Quindi abbiamo le nostre strategie anzi spero che voi abbiate le vostre strategie fammela sapere qua sotto nei commenti la tua strategia se sei semplicemente un holder quindi se accumuli ogni settimana, ogni mese oppure se ti sei messo in pausa hai venduto tutto e aspetti di capire che cosa andrà a succedere a livello macroeconomico. Con questo ho finito se il video ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti un saluto e alla prossima.